Allora, oggi vedremo le equazioni in base a x fratto 5x più 9 uguale 12 Oh, vediamo chi viene alla lavagna Ucino? Ti chiamo Ucino Ma che viene alla lavagna? Vai tranquillo Ucino? Vengo anche io Che devo fare? Questa è un'equazione in base a x 7x al quadrato più 3x fratto 5 meno x il tutto più 9 uguale 12 Beh Trova la x La x La x In questo caso Non è difficilissimo Diciamo la x Sta Sta dappertutto Tranne che è vicino al 9 e vicino al 12 Se uno le cerca le cose le troppe Perché poi basta metterla Tante volte come se è anche sfuggita la stanza Muzie Grazie Grazie!